Siamo con Francesco Dettori al termine di Feralpisalo Bassano 2 a 1 il tuo gol ha permesso di riacciuffare la partita una bella soddisfazione per te la prima in questa stagione sì perché era arrivavamo da un rigore sbagliato quindi un episodio che poteva essere negativo e ci voleva ci voleva qualcosa per cambiare l'inerzia della gara ecco il mio gol ha portato tutta la squadra a dare qualcosa in più ed è arrivata questa vittoria difficile contro un'ottima squadra quattro partite due vittorie due pareggi si sta ritrovando quella continuità che si è sempre pochettino cercata quattro risultati utili consecutivi mancavano di fatto da da un girone è chiaro che adesso bisogna sempre cercare di confermarsi diventa sempre tutto più difficile però questo vi dà un pochettino più di certezze secondo insomma ci sono i risultati delle prestazioni ci allena meglio e si fa in campo con la testa con la testa nelle migliori condizioni ecco c'è da sottolineare insomma che c'è da rivedere un po il primo tempo che abbiamo fatto oggi perché non è stato un bel primo tempo è una squadra come la nostra deve ripartire proprio da lì ecco per cercare di di non commettere gli errori che abbiamo fatto nei primi 45 minuti a una squadra come il bassano che poi appena po ti fa male e ripartire da quello perché mercoledì abbiamo un'altra battaglia e dobbiamo mettere subito da parte questa vittoria ecco e preparare bene questa partita la ferro al pisalò che se si va a vedere la classifica però ha portato via tanti punti alle prime 5 6 della classifica questo dimostra che comunque nelle grandi occasioni non manca mai l'approccio giusto adesso bisogna confermarsi in realtà con tutte le squadre anche perché poi per rimanere nei piani alti bisogna fare punti con tutte certo è un po il limite che abbiamo avuto da inizio dell'anno preparare le partite contro le squadre di vertice contro le squadre del tuo stesso livello è più facile perché comunque gli stimoli e la concentrazione viene viene da sola ecco non bisogna incaparne l'errore di sottovalutare le squadre più piccole perché in questo momento sono le più pericolose sono quelle che giocano col coltello fra i denti perché si devono salvare e abbiamo visto anche oggi il ravenna insomma vinceva san benedetto è una squadra che arrivava da quattro vittorie di fila quindi sarà un'altra partita tosta e noi dobbiamo cercare di proseguire questo cammino cercando di limitare ancora di più gli errori e crescendo magari su su molte cose che che il mister ci sta ci sta insegnando ecco